salve a tutti oggi nel canale workout hd eseguiremo l'allenamento delle braccia una delle split routine più amate ma non bisogna farsi prendere dall'enfasi dello strafare allenamento delle braccia si suddivide nella sollecitazione dei bicipiti e dei tricipiti cominceremo con i bicipiti il lavoro dei bicipiti viene svolto anche durante il lavoro delle trazioni cioè dei dorsali perché un ruolo preponderante viene svolto nella trazione dei bicipiti come la lat machine o il rematore il bicipite si suddivide in due capi il capo lungo e il capo breve ed è un muscolo biarticolare in quanto sulla spalla il capo lungo abduce mentre il capo breve adduce il tricipite cioè la parte posteriore del braccio si suddivide in tre capi e capo lungo capo mediale e capo laterale il capo lungo è biarticolare mentre gli altri due sono monarticolari allora oggi ad illustrarci la split routine delle braccia ci sarò io andrea de luca per visualizzare un video di alcune gare guardate in alto sulla vostra destra adesso andiamo in sala per vedere tutti gli esercizi e le angolazioni dell'allenamento braccia lungo comunque le puntate di workout hd seguiremo come la mia la preparazione preagonistica per le gare primaverili seguiteci continuateci a seguire per avere tutte le anteprime cominciamo col primo esercizio della routine carl alternato su panca tra un oscillazione che varia tra i 60 e 70 gradi allora di questo esercizio e seguiremo quattro serie per otto ripetizioni recuperando sempre tra i 50 e 60 secondi proseguiamo l'allenamento dei bicipiti col secondo esercizio con la combinazione un bisette tra attrazioni presa stretta supina con carl alternato a martello grazie a tutti di questo esercizio eseguiremo quattro serie per otto ripetizioni trazioni e otto cal a martello alternato recupero sempre che si aggira intorno al minuto proseguiamo col terzo ultimo di esercizio dei bicipiti cal cavi alti tipo posa lo eseguiremo a scalare e stripping otto ripetizioni scendiamo di peso otto ripetizioni scendiamo di peso otto ripetizioni grazie a tutti 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 di questo esercizio eseguiremo tre serie a scalare 8-8-8-24 ripetizioni intervallate dallo scalare di peso sempre con recupero di un minuto tra una serie e l'altra. Cominciamo col primo esercizio dei tricipiti con una combinazione tra push down, estensione del braccio alla lat machine, in b set con le estensioni alle parallele. Nelle estensioni cercheremo di svolgere solo il lavoro della parte superiore per coinvolgere, per inibire o quantomeno coinvolgere al minimo la parte del pettorale. Di questo esercizio ho seguito il seguiremo una combinazione di quattro serie, quattro estensioni alla lat machine con corda e quattro alle parallele, per un recupero di un minuto tra una serie e l'altra. Continuiamo col secondo esercizio dei tricipiti, la panca piana con presa stretta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! In questo esercizio eseguiremo quattro serie per otto ripetizioni con un recupero di un minuto tra una serie e l'altra. Proseguiamo con il terzo esercizio e ultimo dell'allenamento delle braccia, ovvero il kickback dal cavo basso, l'estensione del braccio. Grazie a tutti! Il kickback eseguiremo quattro serie per dieci ripetizioni, senza fermarci mai. Essendo un'esercizio unilaterale, quando completiamo il sinistro passiamo subito il destro. Abbiamo completato la sessione delle braccia, fateci sapere se vi piace il nostro canale con un like, iscrivetevi e nel prossimo video sarete voi ad interagire con noi. Sopra c'è un sondaggio sulla vostra destra, diteci se volete un video riguardante l'integrazione o inerente allo spuntino. Ci vediamo alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.